Gustafson non fa il tempo a chiudersi, il muro azzurro, 6 a 4 il punteggio, momento adesso di crisi della scuola azzurra ma forse in attacco manca qualcosina a Giorgio e Bernardi. Hanno sono riusciti a fermare molto bene i nostri schiacciatori che fino a questo momento hanno disputato un grossissimo europeo. Soprattutto Bernardi lo stanno proprio stremando come si può dire ai fianchi usando un gergo pugilistico con questo servizio lungo e profondo. Lo stanno costringendo quindi a fare molte strade in termini del campo di gioco perché deve ricevere, poi deve venire avanti e attaccare. E questa è una cosa che si può vedere anche così per i più profani del pallavolo e il ragazzo sta facendo molta fatica a fare questo lavoro. E' molto buona come c'è la tattica questa di cercare di stramare i nostri schiacciatori soprattutto Bernardi. Ecco vediamo se Lorenzo avrà la possibilità di riuscire sempre ad avere una rincorsa molto dinamica che gli dà la possibilità di fare il suo gioco. 6 a 4 per l'Italia ma servizio sempre nelle mani degli svedesi. Ancora una recessione di Bernardi, si deve spostare Topoli. Cantagalli contro il muro a 3, passa con grande tranquillità e riesce comunque a variare bene in un momento abbastanza problematico per la formazione azzurra. Due punti di vantaggio quando va a riposarsi in panchina Andrea Gardini ed entra al suo posto Roberto Masciarelli. 26enne di 1,96 m della squadra di Falconara. Nilsson, Edengard arriva a Bjorda, seconda linea, tiene molto bene il pallone Topoli. Il palleggio poi di Bernardi per Zorzi che manda direttamente fuori. Errore da parte di Zorzi, il risultato rimane fermo sul 6 a 4 per l'Italia. Primo set vinto dagli svedesi con il punteggio di 16 a 14. Peter Tos baglia in battuta al salto, ha il secondo errore nel corso del secondo set. Andrea Zorzi, la sua battuta al salto, la recessione di Bjorn è buona. Edengard, la veloce ripresa molto bene da Bernardi. Il palleggio di Stofoli per Cantagalli, il muro svedese riesce a trattenere. Edengard ancora in sospensione, arriva Tols. Grazie alla finta di Edengard tira praticamente senza muro. Grande la prova del palleggiatore svedese Edengard che manda costantemente fuori tempo il muro azzurro. Cantagalli, Toffoli, lo schema di incrocio stretto ma Edengard in difesa è molto pronto. Zorzi, errore grossolano da parte di Zorzi dopo una bella difesa di piazzamento da parte di Edengard che va spesso a difendere al centro del campo quando si trova in seconda linea. Luca Cantagalli 6 a 4 per gli azzurri. La battuta al salto dello schiacciatore della piste. Ecco ancora Edengard per Schaff e con un abile cambio di mano riesce a risolvere questo schema d'attacco. Vedete, tocca di sinistro, quel tanto che passa, 6 a 4. E Gustav insomma che rinuncia alla battuta al salto, batte molto corto su Cantagalli. Ma Andrea Lucchetti è prontissimo. Italia che va bene quando riesce appunto a utilizzare molto anche i due schiacciatori centrali. Ecco l'Andrea Lucchetti, la sua battuta corta, riceve però bene Nilsson. Palla stoccata dal mur azzurro e c'è ancora un battuta. Squadre ancora ferme sul punteggio di 6 a 4. Eccolo Andershaff, anche lui in battuta al salto, non forza molto, Cantagalli riceve bene. Masciarelli mantenuto anche in prima linea, riesce a chiudere molto bene e a riconquistare il diritto alla battuta per l'Italia. Il nostro palleggiatore Paolo Topoli. Staff, palla a filo rete. Con una mano Edengard è riuscito a risolvere una recessione abbastanza difficile. Vedete l'altissima percentuale di Peter Toltz. A Cambiorne, Cantagalli completamente errata la sua recessione. Poi arriva Zorzi, poi c'è Topoli. Staff per Edengard. Gustafsson, il mur azzurro riesce a trattenere, ma la Svesti ricostruisce con Lars Nilsson. Ben piazzato questa volta Cantagalli. Palleggio di Bernardi per Zorzi che tira bene a cercare la mano del terzo giocatore a muro. E' così che bisogna fare, non bisogna cercare di chiudere la palla nei due o nei tre metri. Bernardi, la battuta è la recessione di Staff. Arriva a Cambiorne, bella la difesa di Sofoli, ma nulla da fare per Andrea Lucchetta. Buona e potente la schiacciata di Bjorn. Era stato bravo Paolo Sofoli. La palla purtroppo ha preso una direzione laterale. 6-4 per l'Italia, serve Lars Nilsson, Cantagalli. Masciarelli chiude molto bene, sta disimpegnando molto bene Masciarelli anche in prima linea. Eccolo, schiacciatore centrale della squadra di Falconara che va in battuta. 6-4 il punteggio, Edengard. Murato, questa volta Peter Tolse, ed è il settimo punto per la squadra azzurra che sta affaticando moltissimo. Fatica anche l'uomo del tabellone elettronico che non voleva segnare questo punto all'Italia. Ben Gustafsson, Edengard arriva Bjorn, pallonetto da seconda linea. Bravissimo Masciarelli, ma può solamente mandare di là Luca Cantagalli. Tolse per Edengard, si chiama Nilsson da seconda linea. aveva difeso Bernardi, ma la speranza era che la palla rimbalzasse sulla rete. Sul mezzo di 4 per chi batte, 7 per chi riceve. Peter Tolse, centrale dell'Amburgo. È imbattuta al salto, è fuori, è la seconda errore consecutiva di Peter Tolse. Se mi consigliare voglio fare così una notazione. La squadra svedese sta praticamente giocando un gioco completamente diverso da quello effettuato in questi giorni. Sta costantemente variando le posizioni d'attacco della propria squadra. Attacca indifferentemente dalla prima e seconda linea in tutte le zone del campo. Quindi è bravissimo il paesiatore svedese a variare sistematicamente il gioco per non dare mai la possibilità al muro italiano di prendere le misure. Sì, è vero. Grande la prova di Edengard. Intanto 8 a 4 la schiacciata di Cantagalli. Edengard chiama Nilsson da seconda linea. Bernardi riesce a difendere. Poi c'è il palleggio di Zorzi da seconda linea. Masciarelli, bravissimo! Toccata la schiacciata di Masciarelli. Ed è il nono punto con la grande prestazione del centrale di Falconara. Siamo sul punteggio di 9 a 4 per gli azzurri. Andrea Zorzi, un ace direttamente imbattuto al salto. 10 a 4 per l'Italia che adesso deve rimanere concentrata. E c'è il time-out. Bella la battuta al salto di Zorzi. Direi positivo Zorzi in battuta. Speriamo che dopo il time-out non ci smentisca. Ancora qualcosina in attacco, devo aggiustare. Direi anche molto buono il cambio di Masciarelli. È entrato, ha attaccato due palloni in primo tempo, ha chiuso la palla. Ha salvato due buonissime palle in difesa e ha concluso questa palla in attacco. Quindi direi un 100% per quello che riguarda la sua utilizzazione in questo momento della partita. Adesso è importante anche la panchina, è importante per dare il cambio, soprattutto per l'uomo che entra, dare tranquillità e sicurezza al gruppo. Abbiamo bisogno di fare il nostro gioco, quello che dicevamo all'inizio della trasmissione. Speriamo che l'Italia riesca a portare la Svetto a giocare sul proprio ritmo di gioco. 10 a 4 il punteggio. Quello che avete visto inquadrato poc'anzi era un ristorante molto bello, con una veranda che dà dalla Globen Arena. E corre a ripari Cristiansson, entra Lennarsson, va riposarsi Nilsson, Urban Lennarsson, con il numero 2 di maglia, era stato titolare nel corso della prima parte di questo torneo, con Akan Biorna che era ledici da un infortunio. Comunque ha giocato molto in tutte le partite. Ecco la sua ricezione, la palla ripresa da Bernardin difesa. C'è poi il bagger di Topoli, un po' di indecisione tra Zorzi e Cantagalli. Possono attaccare gli svelesi. L'Italia non ha sfruttato questa occasione propizia. Rimaniamo fermi sul punteggio di 10 a 4. Edengard. Ottima la prova del palleggiatore svelesi, come abbiamo già sottolineato. La combinazione però di Lucchetta è pressoché perfetta. Questa schiacciata tesa al centro e Azzurri che vanno a servire. Nuovamente 10 a 4. Ecco Luca Cantagalli, il 24enne di Cavriaco, gioca nella Philips di Modena a Cambiorne. Arriva in sospensione ancora il palleggiatore Edengard. Dall'altra parte del campo, Topoli va a servire Bernardi. Bravo Bernardi. Palla che cade proprio al limite dei 9 metri. Undicesimo punto per la squadra Azzurra. Ancora una possibilità in battuta per Luca Cantagalli. Basta al salto Cantagalli. La ricezione di Gustafson è buona. Lo stesso Gustafson che forza quel tanto che basta per riconquistare la battuta. 7 punti di vantaggio quando Giulio Velasco, l'argentino allenatore della nazionale italiana, chiama in campo Andrea Anastasi. E va riposarsi Cantagalli. Intanto un errore in battuta. Quattro errori nel corso del secondo giro in battuta per la Svezia. Entrato in campo intanto Andrea Anastasi al posto di Cantagalli. 11 a 4, Lucchetta ha battuto, Edengard in regia. Il pallonetto molto bello di Akan Bjorn. E poi aveva toccato terra, l'ha schiacciata, rivediamo. Non è molto d'accordo Andrea Lucchetta. Di fatti una palla un po' a filo. Andrea Lucchetta aveva messo molto bene la mano sotto al pallone. Comunque punteggio sempre di 11 a 4. Ecco Andersaf, Anastasi, Topoli con una mano. Niente da fare, quinto punto direttamente per la Svezia. 5 per chi batte, 11 per chi riceve. Andersaf che il prossimo anno giocherà nella Camps di Bologna. Anastasi in ricezione, chiamato Masciarelli. Ancora Masciarelli di prima attenzione, bella la difesa di Saf. Arriva Gustafsson, la bella difesa di Andrea Lucchetta. Spinge un pallonetto Paolo Topoli. Poi c'è il palleggio di Lennarton per Rakan Bjorn. Fuori la risposta del muro azzurro. Ed è il sesto punto per la Svezia. 6 a 11. Ancora una possibilità per Andersaf. Batti al salto Saf senza forzare troppo. La ricezione di Anastasi. Arriva Bernardi, Murato. Ma Lucchetta in qualche modo recupera. C'è il bacher poi di Giorgi. Arriva Bernardi, ancora Murato. Un quadro di Modena. Dall'altra parte si prova con Giorgi che tira molto forte. La palla torna al campo negli azzurri. Riceva Andrea Lucchetta. Tofoli chiama ancora a Giorgi. È imprendibile questa volta. Lo schiacciatore veneto del Maxicono di Parma. Applausi del pubblico anche per gli italiani a termine di questo scambio altamente spettacolare. Chiuso magistralmente da Giorgi. Batte corto Tofoli. Edengard arriva Gustafsson da seconda linea. La palla si impenna dopo se è stata toccata a muro da Masciarelli. C'è poi Tofoli per Lorenzo Bernardi. La palla toccata nettamente a muro. È il dodicesimo posto per l'Italia. 12 a 6. Ancora una battuta per Paolo Tofoli. Gustafsson. Edengard per Akarn Bjorn. Fuori. Tredicesimo punto per l'Italia. Fuori la schiacciata del mancino. Akarn Bjorn. Paolo Tofoli. 13 a 6. Ancora il nostro palleggiatore in battuta. Lennarton. Edengard. Doppia finta al centro. Arriva Lennarton. Murato da Giorgi. Ricostruisce la Svezia con Peter Toltz. Cambio di battuta. 7 punti di vantaggio per l'Italia. Quando va al servizio. Akarn Bjorn. La ricezione di Bernardi. Arriva Tofoli per Giorgi. Fuori nettamente la risposta del muro di Edengard e Toltz. Ancora 13 a 6. Prima linea azzurra con Masciarelli. Giorgi Anastasi. E c'è Lorenzo Bernardi. Costretto a un faticosissimo lavoro. Sul 13 a 6 va in battuta. La ricezione di Lennarton. Lo schema di tesa. Murato da Giorgi. 14esimo punto. Grazie a questo bel muro di Giorgi su Peter Toltz. 14 a 6. Lorenzo Bernardi. La ricezione di Gustafson. Schema di incrocio. Chiudo in campo. In campo la schiacciata di Urban Lennarton. 6 per chi batte. 14 per chi riceve. Ecco il 27enne che nell'ultimo campionato è militato in Belgio. si sfugge la palla. Comunque facendo ricadere il pallone la possibilità di effettuare nuovamente la battuta. Urban Lennarton. Anastasi errata completamente. La ricezione di Anastasi. Settimo punto per la Svezia. Ancora una battuta al salto per il mancino. Urban Lennarton manda fuori. Questa volta molti errori in battuta della Svezia nel secondo set. La Svezia comunque ha forzato parecchio in questo fondamentale. 14 a 7. Il turno di Roberto Masciarelli. Gustafson. Torna nel campo azzurro la palla. La schiaccia Andrea Lucchetta. Si lotta a filo rete. Andrea Lucchetta. Mura decisamente Toltz. Finisce col punteggio di 15 a 7. In 23 minuti di gioco il secondo set. Situazione di completa parità. L'Italia non ha avuto strascichi psicologici. Dopo la sconfitta del 14 nel corso del primo set. Prima di parlare ancora con Gianpaolo Montagli. Una nota tecnica per quel che riguarda il primo set. Però i dati del secondo set ci arriveranno tra poco. Nella Svezia nel primo parziale Gustafson. Gustafson era stato il mattatore con 5 punti. Poi Nilsson 4, staff 1. Aiutati da 5 errori dell'Italia. Sempre per quel che riguarda le schiacciate vincenti. Un punto per Cantagalli. 3 per Andrea Lucchetta. 2 per Bernardi. 2 per Giorgi. Più 6 errori degli avversari. Questi dati naturalmente si riferiscono al primo set. Adesso siamo in perfetta parità. Intanto vediamo Gianpaolo. Fammi un commento. Questo è il sessetto scelto credo dai giornalisti. Ma io direi che sottolinea sicuramente il particolare momento della formazione italiana. Direi 4 giocatori italiani. Andrea Zorzi, Andrea Lucchetta, Andrea Gardini e Lorenzo Bernari. Quattro giocatori su 6 di sessetto azzurro in campo. Poi Ben Gustafson che in questo torneo sta effettivamente disputando un granissimo torneo. Poi Ian Englegar, quel giocatore di cui sottolineiamo poc'anzi da magistrale prove in questa gara. Direi che hanno scelto bene. Sì, non ci siamo dimenticati di altri giocatori. Perché effettivamente queste due squadre sono andate in finale e hanno a disposizione i migliori giocatori. E poi non è stato mandato, evidentemente, sovraimpressione nello schermo. Ma ho qui davanti il foglio che dice che è anche stato premiato il miglior giocatore in assoluto nel torneo. E questo, il referendum dei giornalisti, ha premiato il giocatore Ben Gustafson del nazionale svedese. Quindi direi un ottimo riconoscimento, già al di là del fatto del risultato che la formazione italiana ha raggiunto fino a questo momento, una qualificazione per la finale, direi un ottimo anche riconoscimento per quello che riguarda i quattro giocatori italiani premiati nel sessetto ideale. Sì, io nel mio personale tabellino non avevo messo Gustafson perché secondo me ha raggiunto molto bene le partite importanti, che vuol dire che è un grande giocatore, però ha raggiunto molto bene forse la partita con l'Unione Sovietica. Io avevo messo Bouvier, un grande campione francese al quale sono sempre particolarmente affezionato. Sono d'accordo su te, probabilmente avrà giocato un brutto scherzo il fatto emozionale di giocare in Svezia, di premiare un giocatore svedese. C, Bouvier ha risposto un ottimo torneo, anche un altro giocatore che non vedo in questo elenco, che è un giocatore olandese, Ron Swerver, che ha disputato veramente un ottimo torneo. Però giochiamo in Svezia, evidentemente qualche leggero favore per la squadra di Carlo Reisers. Bene, intanto Nicoletta Grifoni che è con Gianfranco Pancani, impegnata per quel che riguarda tutti i servizi della radio, Giorgio gentilmente ci ha portato lo score del secondo set per quel che riguarda i punti di attacco. L'Italia ha quattro punti di Zorgi, due di Andrea Lucchetta, uno di Gardini, due di Lorenzo Bernardi, un punto di Manciarelli. Per un totale di sei punti di Zorgi, complessivo dei primi due sette, cinque di Andrea Lucchetta, quindi grande la prova del nostro centrale, quattro Lorenzo Bernardi, due Cantagalli e via via tutti gli altri. Invece è sempre il più bravo tra gli svedesi e Ben Gustafson. Ed è iniziato il terzo sette, punteggio naturalmente di 0 a 0, la bella schiacciata di Andrea Zorgi con l'Italia che riconquista subito il diritto alla battuta. Un sette per parte, 16 a 14 la Svezia, 15 a 7 l'Italia. Siete collegati sempre in diretta con la Globen Arena di Stoccolma, ci sono 15 mila spettatori quasi per vedere questa finale dei sedicesimi campionati europei. L'Italia arriva a questa finale con una sola sconfitta nell'ultima partita del girone eliminatorio, 3 a 2 contro la Francia. Una sola sconfitta anche per la Svezia, che tra le altre cose ha avuto il merito di battere per 3 a 2 l'Unione Sovietica. La Svezia ha perso appunto con l'Italia nel girone eliminatorio per 3 a 0, ha poi vinto 3 a 1 con la Francia, 3 a 1 con la Bulgaria, 3 a 2 con la Germania Occidentale e 3 a 0 con la Germania Est e naturalmente 3 a 2 con l'Unione Sovietica nella partita di semifinale, mentre l'Italia ieri ha battuto nettamente 3 a 0 l'Olanda. Olanda che vi ricordo oggi ha conquistato la medaglia di Brunzo. Sempre 0 a 0 quando Andrea Zorgi piaccia ma la palla non passa nel campo degli svedesi. Primo punto per i nostri avversari quando va al servizio Undersaf. Cantagalli per Topoli, arriva Giorgi e chiude molto bene mentre Nilsson e Toz non hanno fatto altre tante. Intanto da notare subito che Giulio Campo il sestetto che aveva vinto il secondo setto, ovvero Gardini rimane in panchina. In campo c'è Roberto Masciarelli e rientrato invece Cantagalli al posto di Anastasi. Eccolo Masciarelli, c'è poi Topoli per Cantagalli, murato onestamente Luca Cantagalli ancora si cambia battuta. Molto pronto il muro a 2 degli svedesi quando va a servire Akan Bjorn. Cantagalli per Topoli, arriva Andrea Lucchetta, riesce in qualche modo a passare. Sono alzata non proprio perfetta, ma il tutto era nato naturalmente da una recessione non molto precisa. La recessione di Nilsson, si sposta Edengard, arriva Akan Bjorn, bravo Bernardi in difesa. Palleggio poi è di Zorzi, Andrea Lucchetta tira sulle mani del muro, ricostruisce Saf per Edengard. Arriva Nilsson, chiude molto bene in diagonale l'arte Nilsson. Grande il movimento, volevi dire qualcosa su questo schema d'attacco degli svedesi? Sì, direi che stanno variando moltissimo le scelte di attacco. Avete visto in questo momento che Nilsson era a muro, così, per essere più chiara, nella parte vicina al primo arbitro, non per schiacciare una palla della zona 2. Quindi direi grossa varietà di gioco della squadra svedese, soprattutto per sorprendere questa Italia, che nel girone di qualificazione l'aveva battuta 3-0. Quindi evidentemente stanno prontando qualche modifica per avere la possibilità di mettere in sicurezza al nostro muro. Però vedo un'Italia molto concentrata e difficilmente potrà farsi mettere sotto. Luca Cantagalli al servizio, un punto da recuperare in questa fase iniziale, il terzo set. Ecco che l'abbiamo recuperato con questo muro vincente di Andrea Lucchetta. Perfetta parità, uno per chi batte, uno per chi riceve. Perfetta parità anche nei seste. Il primo, la Svezia, 16-14, il secondo l'Italia, 15-7. Luca Cantagalli ancora in battuta al salto, la finta di Veloce, la bella difesa di Zorzi, poi quella di Masciarelli. Bernardi può solamente muovere le mani e finisce fuori la schiacciata degli svedesi. Taglia in vantaggio, 2-1, ancora una possibilità al servizio per Luca Cantagalli. Gustafson, Edengard, chiama Agambjorn. Bravo Masciarelli, ma è stato lento in questo frangente un pochino a girarsi Andrea Lucchetta. Svezia che riconquista il diritto alla battuta. 1-2 il punteggio. Palla torna nel campo degli azzurri, c'è poi Andrea Lucchetta, la palla finisce fuori. Perfetta parità, ancora Peter Toltz al servizio. Rinuncia da battuta al salto, Peter Toltz. Cantagalli per Tofoli, arriva Bernardi, gira molto bene, ma Gustafson è bravissimo a recuperare. Poi Bernardi in due tempi, prima a muro e poi con un braccio. Ancora Bernardi contro il muro a due, il muro riesce a trattenere il palleggio di Edengard. Quello di Saffa, arriva Gustafson, la palla finisce fuori. È stata probabilmente toccata da Andrea Lucchetta, il quale si prende subito carico dell'errore commesso. Anzi del tocco, perché non si tratta certo di un errore. Peter Toltz 3-2, Luca Cantagalli, errata a sua riflessione. E' direttamente il quarto punto da parte della squadra svedese. Cantagalli, si deve ancora spostare Topoli, qualche problema in ricezione. Arriva Giorgi, va a cercare le mani del muro. Conteggio sempre di 4-2 per la Svezia in questo terzo sette. Andrea Lucchetta, Gustafson, Edengard, Gustafson, il nostro muro chiude con grave ritardo. E siamo all'ennesimo cambio di battuta. Vedete Andrea Lucchetta continua ad incitare il capitano dell'Italia, Topoli per Giorgi. Subito riconquistata la battuta, grazie a questa schiacciata di Andrea Zorzi. Paolo Topoli. Parte corto Topoli, Nilsson in sospensione, arriva Akan Bjorn. Palla toccata da Zorzi, saltato con un attimo di ritardo sulla schiacciata di Akan Bjorn. Vedete la mano destra di Zorzi, ha toccato nettamente il pallone. Sempre 4-2, Ben Gustafson, Andrea Lucchetta, il palleggio di Zorzi. Fuori, sta schiacciata da seconda linea, 5-2. E c'è il time-out richiesto naturalmente da Giulio Velasco. Qualche problema in attacco forse per Cantagalli? Ma sì, ma in generale stiamo commettendo forse qualche errore di troppo. Sì, forse il nostro attacco in questo momento non è più efficace come nel corso del primo e del secondo set. Però stiamo commettendo qualche errore in generale. Errori di ricerzione su battuti in salto che non è che sia poi difficilissimo. Ecco, adesso sarà molto importante eliminare questa quantità di errori. Anche perché siamo una squadra che fino adesso ha giocato soprattutto moltissimo sui punti fatti da se stessa, non sui ordini di avversari. Quindi ha bisogno assolutamente di continuare su questo rendimento di gioco. Una sola notazione prima, ci siamo dimenticati, quando hanno presentato i sei nomi dei giocatori nel setetto, sono tutti i giocatori che sono campionati italiani. Quindi questo è anche un riconoscimento al lavoro dei club e soprattutto i campionati italiani. Bene, intanto l'Italia ha riconquistato subito il servizio. Il signore che avete visto inquadrato prima era Ruben Acosta, il messicano presidente della federazione mondiale della pallavolo. Sono state prese diverse decisioni anche per quel che riguarda le coppe internazionali. L'Italia ha guadagnato due finale, si giocherà a Parma. La finale di Coppa dei Campioni femminile si giocherà a Ravenna che poi probabilmente verrà sbocciata nel più comodo impianto di Forlì. Intanto lo Svesti ha realizzato il sesto punto, 6 a 2 col servizio di understaff. Cantagalli, Stofoli, chiude molto bene Masciarelli e l'Italia riconquista la battuta ma deve recuperare ben 4 punti. Italia che sta giocando a corrente un po' alternata. Ecco Roberto Masciarelli che ha preso ormai stabilmente il posto di Andrea Gardini almeno in questo frangente. Il pallonetto di Bjorn, la bella difesa di Masciarelli. Arriva Cantagalli, chiude molto bene ed è il terzo punto per la squadra azzurra che riprese egregiamente con questa bella schiattata Cantagalli. Forse anche lui soffriva un po' come Bernardi al fatto di dover lavorare moltissimo in ricezione. Ancora Cantagalli e quarto punto per la squadra azzurra. 4 a 6. Dimezzato lo svantaggio. Ancora Roberto Masciarelli Cercare Gustafsson proprio al limite dei 9 metri. Edengard arriva Akan Bjorn e fuori nettamente la schiacciata di Akan Bjorn. 5 per chi batte, 6 per chi riceve. L'Italia maggiormente concentrata è riuscita questo piccolo break di 3 punti. Ancora la battuta attesa da parte di Masciarelli. La doppia finta al centro e poi Lars Nielsen va a chiudere molto bene. 6 a 5 per la Svezia. Abbiamo comunque recuperato 3 punti. Ecco pronto in battuta Akan Bjorn. La ricezione di Bernardi per Toffoli. Lo schema d'incrocio avanti e questa volta è il muro della Svezia che quando la ricezione italiana funziona comincia a saltare un po' contro tempo. 6 a 5, Andrea Giorgi. Passi al salto Giorgi, tiene Nielsen per Edengard. Ancora Nielsen ha un suo pallonetto. Ripreso molto bene dall'Italia. Bernardi chiama Cantagalli da posizione difficile. Difende bene Bjorn. Arriva Lars Nielsen. Bellissimo tuffo di Masciarelli. Poi il bagger di Cantagalli. Arriva Zorzi da seconda linea e schiaccia. Ma ricostruisce la Svezia con Edengard. Arriva Nielsen. Murato. Anzi è direttamente il quarto tocco. segnala il finlandese Salonen che sta dirigendo a nostro avviso molto bene questo incontro. 6 a 6. Ancora Andrea Giorgi. Ed è buona la battuta del grande Zorro della nostra palla a volo. l'Italia che torna in vantaggio. 7 a 6. Un Giorgi ritrovato che ti conforta due volte, non una. Sì Andrea, sicuramente un giocatore in questo momento può essere determinante. Ha faticato un po' all'inizio, scusami per l'interrompo. Sì sì, ha faticato un po' soprattutto nelle conclusioni di attacco. Il servizio è sempre spinto bene, spinto al massimo. Sì, è di buona spigio. In questo momento è solo per l'Italia. Qui stiamo facendo il tipo solo per l'Italia. Quindi da domani probabilmente è un buon segno anche per il mio club. Direi soprattutto che la squadra italiana sta giocando soprattutto questo europeo con una metà molto particolare. È in campo per vincere. Sta giocando questo europeo fin dalla prima gara con questo obiettivo, quello di vincere il torneo. Io direi che è una delle squadre insieme alla Svezia forse che se lo merda, ma forse l'Italia se lo merda per qualcosina in più che ha dato il suo battuto dal punto di vista del coraggio e della determinazione. E andiamo a vedere. 7 a 6 in questo terzo sette. Ancora Andrea Giorgi. Ancora questa volta è fuori di un zuffio. È sempre molto difficile tirare una battuta al salto di potenza dopo un time out, errore di Andrea Giorgi. l'Italia con un punto di vantaggio comunque da 6 a 2 a 7 a 6. L'Arc Nilsson. Cantagalli arriva a Topoli, poi ancora Cantagalli fuori. La risposta del muro fa bene Zorgia a lasciare. Cantagalli conquista un importante cambio palla. Ed eccolo adesso impegnato anche lui in battuta al salto. La ricezione di Saf si deve spostare Edengard. Arriva a Cambjorn. Finisce fuori la risposta del muro a giurro. E c'è ancora il cambio di battuta ed è Peter Tos, schiacciatore centrale. Svedese che va a servire. Anche lui rinuncia la battuta al salto. Riceve bene questa volta Cantagalli. Contagalli conquista molto bene da Andrea Lucchetta. E vedete come riesca a giocare con grande disinvoltura. Paolo Topoli, se appena la ricezione funziona. Comunque anche quando c'è da correre il regista della Nazionale. Si sta disimpegnando molto bene. Comunazione di veloce tra Edengard e Andersaf. Ancora un cambio palla. 6 per chi batte, 7 per chi riceve. Rivediamo la conclusione vincente di Andersaf. Edengard batte molto distante dalla linea di fondo. Anche lui la ricezione di Bernardi. Topoli chiamato Masciarelli. Rimedia poi il solito Edengard. Gustafson, il muro azzurro è buono. Proprio sulla riga il muro azzurro. Sulla schiacciata di Ben Gustafson. Vedete Topoli e Masciarelli. È stato Masciarelli. La palla era buona. 7 a 6. Paolo Topoli, Gustafson. Lo schema di incrocio ma è il primo giocatore a colpire. E lo schema per certi versi sbagliato della Svezia si rivela vincente. Ecco Gustafson. Vediamo se deciderà di battere al scialto. No, decide anche lui da molto lontano di battere una battuta tesa e corta. In grande difficoltà a Cattacalli. Siamo 7 a 7. Anche con queste battute Gustafson, così come con la battuta al salto, riesce a mettere in difficoltà la recessione azzurra. Continua a battere tese e corto. Bernardi, c'è una scata di Giorgi per lo stesso Bernardi che manda direttamente a rete. Ottavo punto per la Svezia. Qualche problema è recessione ma dovete stare attenti a non forzare troppo le palle schiacciate in recupero. Ben Gustafson e Cattacalli ancora in difficoltà. Toffoli, Zorzi contro il muro a 3. Risolve una situazione alquanto problematica per l'Italia. Svezia che è tornata in vantaggio di un punto. Quando va al servizio Lorenzo Bernardi. Cercare Nilsson. Si deve spostare di corsa Edengard. Arriva Nilsson e fuori nettamente la sua schiacciata. I vedesi cercano di influenzare il secondo arbitro, il tedesco occidentale Mule. Ma il pallone non è stato toccato da nessun giocatore italiano. 8 a 8. Lorenzo Bernardi. Esezione ancora di Nilsson. Questa volta è buona. Doppia finta al centro. E Gustafson tira molto bene sulla mano esterna. Di Luca Cantacalli. Punteggio sempre di 8 a 8. E cambio di battuta. Undertaf. Controllato l'arbitro con il segnapunti. E si riprende sul punteggio di 8 a 8. La ricezione di Lucchetta. Cantacalli. Murato. Ma c'è Zorzi pronto in difesa. Toffoli chiama ancora. Cantacalli. Murato nuovamente. Luca Cantacalli da Pettersos. E fa riposarsi Cantacalli. Che ha avuto qualche problema in ricezione. E poi c'è un attacco. Entra Andrea Nassasi. Così come era accaduto nel sesto precedente. 9 a 8. Staff continua a battuta al salto. Riceve bene Nassasi. Toffoli spinge per Massarelli. Ma è nettamente fuori. La conclusione al centro tirata da Massarelli sul segno di 10 a 8 del time out. Chiamato da Giulio Velasco. È ricominciato qualche problema in ricezione. Come potete. Eh sì. Abbiamo accusato troppo questo servizio così soltanto da lontano. Che ha messo molto in difficoltà Cantacalli. Ma i giudici sono bravi in questo. Stanno battendo sempre sui due ricettori. Sul ricettore che è prima linea e che attacca davanti. Quindi con questo lavoro ai fianchi piano piano hanno un po' così fatto perdere il ritmo dell'attacco a Cantacalli. Il problema dei Cantacalli è stato questo. Ne sta passando bene in attacco anche perché è sempre sotto pressione. Speriamo che nei corsi della gara riusciamo a recuperare soprattutto Cantacalli in attacco perché sarà determinante. Squadri che rientrano in campo dopo il time out. Il secondo richiesto da Giulio Velasco su punteggio di 10 a 8 in questo terzo set per la Svezia. Understaff ancora al servizio. Bernardi, Toffoli, sospensione, Masciarelli, bella difesa di Gustafsson. Il palleggio poi per il muro vincente di Masciarelli e Anastasi. Questa sera su Rai 1 Luca Zingaretti in Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Uppi Goldberg in Sister Act 2. Su Rai 3 Report un programma di Sigfriddo Ranucci. Su Rai 4 gli episodi della serie Marvel's Runaways. Su Rai Storia il docufilm. Io sono Venezia. Fate la vostra scelta. Buona visione con le prime serate Rai. Lei ha detto che il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. questo significa che non ha paura. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e inconscienza. La lotta alla criminalità non si fermerà mai. Mettiamo una bandiera italiana o un drappo bianco ai nostri balconi per ricordarlo ogni giorno. Batte corto ed è direttamente il nono punto. Una battuta molto stretta in diagonale, rischiosa ma che ha dato ottimi frutti. È il momento di cominciare a forzare un po' in tutti i fondamentali. Roberto Masciarelli cambia adesso zona di campo, riceve bene Gustafsson. Arriva Lars Nilsson e stringe molto bene in diagonale. Il punteggio è di 10 a 9. L'Italia ha rosicchiato un punto. 10 a 9. Akan Bjorn, fuori la battuta di Akan Bjorn. Un solo punto da recuperare quando va al servizio Andrea Giorgi. E al salto Giorgi, buona ancora. Siamo 10 a 10. Grande lungolinea di Andrea Giorgi. Guardate, niente da fare per la ricezione a tre degli svedesi. Ancora Giorgi insiste. Edengard spinge su Akan Bjorn. Fuori la battuta, la schiacciata, scusate, di Akan Bjorn. Italia che torna in vantaggio. 11 a 10. E il time out, questa volta, è richiesto da Christensen. Adesso diventa decisiva perché è difficilissimo, no? La battuta al salto dopo il time out. Difatti, prima Andrea ha sbagliato. Però è importante che Andrea continui a spingere il servizio perché abbiamo visto che l'ultima rotazione, gli ultimi due uomini in servizio, che sia Masciarelli che Zordi, rischiando il massimo il servizio, hanno messo in grossissime difficoltà la squadra vedele. Questo deve essere il legmotiv in questo fondamentale. Spingere il più possibile per costringere la svedese a giocare solo palla alta. In questo modo diventa molto più semplice per la lettura del segnale a muro. Deve lo spingere. Andrea sicuramente continuerà, conoscendolo molto bene, e farà bene a rischiare il servizio. E andiamo a vedere, sono vere le parole di Giampaolo Montali. 11 a 10. Andrea Giorgi ancora in battuta al salto. Continua a forzare, riesce a tenere bene Nilsson. Ancora Nilsson fuori la risposta del muro azzurro. Un punto di vantaggio per la squadra italiana. L'Arts Nilsson che si sta rivelando grande protagonista, sempre presente nei momenti importanti. Moltissime le sue conclusioni d'attacco. Bernardi, Sofoli, arriva Anastasi. Va a chiudere lo schema, ma ricostruiscono i nostri avversari. Con Peter Sofolio, la palla tutta volta è stata tocchata. Giampaolo a muro, perfetta parità. 11 a 11. Quando va a servire Lars Nilsson. Bernardi, un po' di problemi in ricezione. Arriva Giorgi. Fischiata in frazione alla squadra giurra. 12 a 11 per la Svezia. Ancora il servizio piazzato di Lars Nilsson. Un po' in difficoltà ancora l'Italia. Si sposta Tofoli. Arriva Giorgi e chiude molto bene, ma si viene fischiata in frazione. Ovvero secondo l'arbitro, Giorgi è saltato in prima linea. La possiamo rivedere. Giorgi non era in prima linea, un po' al limite forse. Non si può un giocatore in seconda linea saltare in prima linea, ma si sembra che Giorgi abbia messo un piede prima. Comunque Bernardi, Tofoli, Andrea Lucchetta. Fuori la risposta del muro svedese. C'è da discutere su questo 13 ultimo punto, che abbiamo avuto modo anche di vedere con l'immagine rallentata. Comunque, 11 a 13, al servizio Anastasi, la riflessione di Gustafsson, Edengard, Akan Bjorn. Riconquista il servizio per la squadra svedese, Akan Bjorn. Il turno di Peter Tols. Basta è corto Tols, arriva Anastasi. Poi c'è Andrea Lucchetta. Bella questa veloce alta, servita da Paolo Tofoli e tirata da Lucchetta molto bene. vedete, palla alta sopra le mani del muro. Un cambio per la Svezia. Vai banchina a Peter Tols, entra al suo posto Jean Olmquist, 24 anni di 1,91 m. Anche lui gioca come Bjorn nella squadra del Lidingo. La sua recessione è buona, arriva ancora Bjorn. Da seconda linea, Murato, ma sono bravi in difesa i nostri avversari. Gustafsson però è Murato da Masciarelli e Bernardi. dodicesimo punto per la squadra italiana che ha ancora a disposizione la battuta di Andrea Lucchetta mentre Masciarelli, Bernardi e Tofoli sono in prima linea. Batte cortissimo Andrea Lucchetta. Si fa trovare pronto Nilsson. Arriva ancora Gustafsson. Fuori di un soffio del muro della squadra italiana. Svezia in battuta col punteggio di 13 a 12 in questa fase cruciale del terzo set. Edengard, Bernardi, arriva Tofoli, la finta. Ancora Bernardi possono ricostruire gli svedesi con Saf che chiama Gustafsson contro il muro a tre. Rimedia in difesa molto bene Anastasi. Poi Zorsi da seconda linea. Edengard è molto bravo. Masciarelli non riesce a chiudere perché Edengard è brevissimo in difesa. Arriva Gustafsson, Murato ancora! Dal muro a tre degli azzurri e siamo fermi sul punteggio di 13 a 12 per i nostri avversari. Abbiamo riconquistato il servizio con Paolo Tofoli. La gestione di Omquist arriva Gustafsson. In due tempi Masciarelli, il palleggio di Tofoli. Bernardi la palla toccata nettamente prima dal muro e poi dalla difesa 13 a 13. Ancora Paolo Tofoli al servizio e rivediamo la schiacciata di Bernardi toccata prima dal muro e poi dagli svedesi in difesa. Pischia al pubblico della Globen Arena la battuta di Tofoli molto corta. Edengard accenna solo. Zorsi si fa trovare pronto. Tofoli riesce in qualche modo ad alzare il pallonetto di Bernardi. Trepitoso. Edengard è veramente un giocatore eccezionale. Grande la difesa del palleggiatore della squadra di Cuneo. E poi ci pensa il grande Zorro a realizzare il 14esimo punto per la squadra italiana. 14 a 13 per l'Italia. e il servizio ancora nelle mani di Paolo Tofoli. Batte teso Tofoli. Recessione di Omquist è sbagliata. Bjorn però rimedia. Arriva Gustafsson. Bravo ancora Tofoli. Il palleggio di Andrea Lucchetta. Zorsi non può forzare. Fa bene. Arriva Edengard. Il palleggio che solta è di Saf. Gustafsson. Fuori. Quindicesimo punto per l'Italia. 15 a 13. 2 a 7 a 1 per la squadra azzurra. 15 a 13. Grande prova di carattere di una grandissima squadra azzurra. Fuori casa. 15 a 13. 2 a 7 a 1 per la squadra azzurra. Dobbiamo dare atto a Giampaolo. Prima una grandissima prova di carattere della squadra azzurra. E poi direi in linea di massima a un arbitraggio abbastanza equo che ha detto qualche cosa prima con la schiacciata di Zorsi che ha ridato qualche cosa adesso. Sì direi sicuramente una prova di carattere grossissima da parte nazionale che nella parte finale di questo set era sotto e che ha raggiunto recuperare punto su punto senza sbagliare mai. Sì questa forse l'ultima palla poteva essere anche buona ma ne avevano tolte qualcuno prima ma va bene così. L'importante è che la città è di vantaggio 2 a 1 e soprattutto che in questo inizio di quarto set la formazione italiana soprattutto mezzo a sotto la squadra italiana anche dal punto di vista psicologico. E direi che in questo momento sarà importantissimo vedere l'aggressività della squadra italiana durante il proseguimento della partita. Il suo amico nemico ma direi tutto sommato il suo amico Giulio Velasco che cosa raccomanderà principalmente nella fase iniziale del quarto set? Sicuramente ricorderà le disposizioni tattiche della gara perché in questo momento sia importante il fattore emotivo è importantissimo avere anche carica agonistica ma la cosa importante è soprattutto ricordarsi tutto quello che c'è da fare di importante durante la partita quindi le disposizioni tattiche riuscire sempre costantemente a mettere in difficoltà l'assetto difensivo della squadra avversaria e sicuramente cercherà in questo momento di dare la carica giusta alla squadra italiana che è un passo dalla conquista di questo trono europeo. e invece Cristian è un altro allenatore che conosci molto bene visto che durante la stagione allena a Bologna potrà cambiare ancora qualcosa a livello strettamente tattico ma guarda quando i set finiscono come questi 16, 14, 15, 13 direi che il confine così tra le due squadre è labilissimo non è che sia una squadra che emerge in modo particolare raccomanderà soprattutto i suoi giocatori probabilmente di non commettere gli errori come sono stati commessi nella parte finale perché effettivamente la squadra svedese dal 10 al 15 la squadra italiana ha regalato sicuramente tre di questi punti alla squadra nazionale quindi ecco si raccomanderà moltissimo di commettere pochi errori e adesso è importantissimo questo set e mi auguro che l'Italia parta con il piede giusto perché vorrebbe veramente dire un finale di partite in discesa bene andiamo anche a vedere i punti d'attacco del terzo set tre punti per Andrea Zorzi due punti Cantagalli e Masciarelli un punto per Bernardi e Lucchetta più sei errori degli avversari per un totale di Zorzi in questo momento un match winner della squadra azzurra con nove punti seguito da Andrea Lucchetta sei punti poi cinque punti Bernardi tre punti Masciarelli questo naturalmente per quel che riguarda le schiacciate vincenti cioè quelle che hanno portato un punto alla squadra azzurra dall'altra parte del campo il mattatore è sempre Ben Gustafsson con undici schiacciate vincenti chiaramente nel complessivo dei tre set poi cinque per Lars Nilsson tre per Peter Tolz e due per il centrale che il prossimo anno giocherà Polonia Andersaf una infine per Akan Bjorn e si riprende quarto set siete sempre collegati in diretta con la Globen Arena di Stoccolma 15.000 spettatori per questa finalissima della sedicesima edizione dei campionati europei Akan Bjorn il suo cambiopalla potentissima la schiacciata in diagonale di Akan Bjorn ed ecco Gustafsson batte al salto Gustafsson potentissima anche la battuta di Gustafsson Topoli per Masciarelli murato decisamente da Andersaf primo punto per la Svestia 1-0 ma 2-7-1 per la squadra italiana Ben Gustafsson Andrea Lucchetta Topoli per Giorgi la palla toccata nettamente dalle mani del muro Azzurri che devono riconquistare un punto nel corso di questo quarto set quando va in battuta Lorenzo Bernardi molto corta per la recessione di Nilton con una mano c'è poi il palleggio di Tofoli quello di Masciarelli arriva Anastasi Bernardi il suo palleggio Tofoli arriva Giorgi e chiude con grandissimo tempismo e coordinazione Andrea Zorgi siamo in perfetta parità per quel che riguarda il Svestetto Azzurro mantenuto sempre Tofoli in regia con Zorgi schiacciatore opposta qui è stata toccata la palla e quindi Italia che va in vantaggio per 2-1 sta uscendo il Svestetto Azzurro è stato mantenuto anche Anastasi al posto di Luca Cantagalli e naturalmente Masciarelli nel ruolo di centrale al posto di Gardini quindi Tofoli in regia con Zorgi schiacciatore opposto Masciarelli Andrea Lucchetta due schiacciatori centrali Lorenzo Bernardi e Andrea Anastasi sono i due schiacciatori d'Ala 3-1 per l'Italia Lorenzo Bernardi che va ancora in battuta la ricezione di Gustafsson lo schema per il bellissimo tuffo di Bernardi in difesa poi c'è il bagger di Masciarelli e ancora un grande Zorgi Gustafsson questa volta è preparato Agam Bjorn Murazzurro trattiene ma la palla finisce fuori di un tuffio uno per chi batte tre per chi riceve è il turno del centrale Andersaf 2 metri 24enne Andrea Lucchetta arriva Tofoli poi Masciarelli e chiude molto bene questa schiacciata di veloce alta ha un po' alzato anche il raggio delle veloci Tofoli soprattutto buonissimo l'inserimento di Masciarelli in questo corso di partita che ha dato sicuramente la possibilità all'Italia di essere più ficcanti in questo attacco in primo tempo e poi Tofoli con la ricezione su questi livelli riesce a spingere benissimo il gioco 4 a 1 per gli azzurri ancora Masciarelli al servizio molto corto palla che torna al campo dell'Italia si inserisce rapidamente Tofoli arriva Anastasi ricostruiscono grazie alla bella difesa di Gustafsson a Gambiorne Murato dall'Astasi e Andrea Lucchetta 5 a 1 5 a 1 per l'Italia concentrata determinata trepidoso direi no? si direi proprio di si in questo momento soprattutto l'Italia sta cercando di arginare il più possibile la Svezia da tutti i punti di vista il muro sta facendo una pressione incredibile e direi che l'aggressività della squadra italiana può veramente fare una differenza l'importante in questo momento è tenerli lontani con i punti e farli sentire come si dice il piatto addosso bene 5 a 1 vedete Giulio Velasco l'allenatore argentino che è coltivato in panchina dal secondo allenatore Angiolino Frigoni poi il dottor De Luca e il medico i due fisioterapisti Forlani e Moranger Li Benzio Conti tutti meritevoli di citazione per l'ottimo lavoro di equipe che hanno compiuto fino a questo momento 5 a 1 per l'Italia con la Svezia nel quarto set Lars Nilsson Edengard si salva come può Bernardi è bravissimo in difesa poi c'è Toffoli Anastasi contro il muro a tre forza un po' troppo Anastasi c'è poi il tentativo disperato da parte di Bernardi in difesa vedete il piccolo Anastasi solo un metro e 83 statura più che sufficiente per un uomo normale ma spesso non sufficiente per giocare a pallavolo a questi livelli ma Anastasi ci riesce greggiamente Ben Gustafsson Andersaf Nilsson il muro azzurro ma Bjorn è ben piazzato Edengard ancora Nilsson il palleggio di Bernardi si interisce Toffoli che chiama ancora Giorgi il pallonetto di Giorgi viene intuito molto bene da Tolls e Nilsson a muro vesti al servizio con Akan Bjorn Bernardi Toffoli Giorgi si riscatta subito dal mezzo errore diciamo commesso in precedenza ottima la sua schiacciata guardate bellissimo il movimento di Giorgi la sua battuta al salto tesa riceve bene Nilsson arriva dall'altra parte il campo Akan Bjorn è un grande Anastasi dà il sesto punto all'Italia il piccolo grande Anastasi realizza a muro guardate il sesto punto 6 a 2 ancora Andrea Giorgi a cercare Nilsson sempre costretto a giocare a filo rete Edengard poi c'è Tolls poi c'è Giorgi spinge Toffoli Edengard Nilsson murato da Toffoli Andrea Lucchetta siamo sul punteggio di 7 a 2 7 a 2 per l'Italia nel corso del quarto set ancora una battuta al salto per Giorgi che sbaglia ma è quello che ha dato il via alla fuga azzurra grande Andrea Giorgi grande tutta l'Italia che sta giocando con grandissima determinazione Lars Nilsson 5 punti da recuperare per gli svedesi la ricezione di Bernardi Toffoli Andrea Lucchetta bravo Saff Edengard Tolls in due tempi riesce a recuperare la sua stessa schiacciata poi c'è Gustafson e Andrea Lucchetta invalicabile 7 a 2 cambio di battuta va Lars Nilsson in panchina entra Urban Lennerson che già l'ha trovato spazio nei set precedenti la ricezione di Saff arriva Edengard la seconda linea si chiama Bjorn Zordi è molto ben piazzato il palleggio di Anastasi ancora a cercare Giorgi che chiude l'ennesima schiacciata da seconda linea imprendibile Giorgi strepitoso in battuta grande in attacco Andrea Anastasi Saff Edengard a Cambiorne ancora ben piazzato Anastasi ma fischiata una infrazione a Lorenzo Bernardi che si prende subito carico dell'errore commesso 8 a 2 per la squadra azzurra è il turno di battuta Cristianzone Stava protestando su un fallo di invasione a rete di Bernardi ma che io non ho visto assolutamente 8 a 2 il servizio molto corto di Andrea Lucchetta la ricezione di Gustafsson Edengard la bella difesa di Zordi la palla che torna al campo degli svedesi di Acambiorne Edengard ancora per Gustafsson il muro di Bernardi 9 a 2 grande anche Bernardi costretto a un super lavoro e adesso a cosa bisogna fare attenzione solamente alla troppa euforia? no è una cosa che bisogna pensare e ancora ricordarsi sempre costantemente quello che farà l'avversario continuare a giocare sempre sulla tecnica e sulla tattica di gioco qui quando sarà l'ultimo punto penseremo a urlare a grisare se effettivamente riusciremo a chiudere questa palla però da qui fino a questo punto dobbiamo rimanere assolutamente concentrati su ogni singolo pallone perché potrebbe essere quello decisivo della partita e allora si riprende i 15.000 della Globen Arena continuano ad incitare i loro Beniamini svedesi ma il risultato è di 2-7-1 per la squadra azzurra e di 9-2 nel corso del quarto set ancora per la squadra italiana che adesso va al servizio con Andrea Lucchetta la recessione di Lennarton Edengard Anastasi piazzatissimo Bernardi Masciarelli la palla torna nel campo svese con Gustafson arriva Saff il muro riesce a trattenere Giorgi per Topoli andiamo a vedere la schiacciata di Bernardi la bella difesa di piazzamento di Peter Toltz Edengard chiama Ben Gustafson il palleggio del nostro grande regista Topoli spinge Bernardi questa volta gli viene contestata una infrazione dal finlandese Salonen quale speriamo non voglia fare un po' il gioco della compensazione altrimenti rovina una direzione di gara fino a questo momento eccellente Anastasi Topoli Masciarelli Murato terzo punto per la Svezia ancora un servizio per Edengard Anastasi in ricezione si lotta con la veloce di Masciarelli dall'altra parte del campo Fiorne contro il Mura 3 finisce fuori la risposta del Mura azzurro è il quarto punto e Giulio Velasco fa bene cerca di spezzare questa serie positiva con un time out Svezia sospinta molto dal pubblico un po' meno dal complesso tecnico di come sta andando la partita direi che questa leggera rimonte di due punti soprattutto data da qualche episodio sporadico ma se l'Italia deve essere non far sorprendere questo sarà difficile per la Svezia recuperare soprattutto ottimo il time out chiamato da Velasco perché è importantissimo adesso bloccare sull'ansia l'intenzione di questa Svezia che può fare assolutamente affidamento sul fattore emozionale e sul fattore carne e si riprende sul punteggio di 9 a 4 dopo questo time out richiesto dall'allenatore italiano il turno di servizio per il regista Ian Edengard sicuramente uno dei migliori in campo ecco l'Edengard imbattuta al salto la ricezione di Anastasi arriva Tofoli chiamato Giorgi ancora fischiata una inflazione ad Andrea Giorgi quinto punto per la Svezia ancora una possibilità di servizio per Edengard Anastasi Topoli Bernardi mette fine a questa lunga serie positiva degli svedesi che hanno realizzato tre punti vedete l'alzata di Paolo Tofoli la finta e la bella schiacciata di Lorenzo Bernardi Paolo Tofoli poteggia di 9 a 5 Gustafson palla intorno il capo azzurro Bernardi fischiata questa volta l'invasione aerea l'isvedesi e il decimo punto è per la squadra azzurra 10 a 5 il punteggio con le proteste dei giocatori svedesi in particolar modo di Andershaf andiamo a rivedere vedete la lotta a rete che è stato probabilmente il tocco del giocatore svedesi a rete 10 a 5 si consultano i due fischietti naturalmente questo per questo momento a vantaggio della Svezia si consultano i fischi dei 15.000 Italia concentrata e determinata guardate il nostro allenatore Giulio Velasco il primo arbitro il gilandese Salon irremovibile dopo il consulto col tedesco occidentale Mule 10 a 5 per gli azzurri Paolo Topoli Gustafsson arriva a Cambiorn fuori di un soffio la risposta del muro azzurro si cambia servizio col punteggio di 5 per chi batte 10 per chi riceve Ben Gustafsson al servizio la ricezione di Andrea Lucchetta Topoli chiama Giorgi chiude molto bene Giorgi Anastasi la finta di Masciarelli arriva ancora Giorgi difende bene Tolso in soffizione il muro azzurro in questo momento la meglio poi c'è Edengard che rimposta per Urba Lennarsson Murato Lennarsson e si cambia l'Italia riprende la battuta 10 a 5 con il muro vincente degli azzurri c'è un cambio torna in panchina Andrea Anastasi rientra in campo Luca Cantagalli grande la prova di Anastasi in ricezione in difesa soprattutto ma bravo anche in attacco Lorenzo Bernardi Lennarsson arriva Gustafson non si chiude in tempo il muro azzurro vedete la bellissima schiacciata di Ben Gustafson da seconda linea nulla da fare per Bernardi in difesa il servizio di Andersaf Bernardi Stoffoli arriva Giorgi la palla ha toccato due volte il giocatore svedese Stoff impegnato in difesa schiacciato subito la doppia l'arbitro Salonen 10 a 5 il servizio nelle mani di Roberto Masciarelli Stoff Edengard fa la toccata ancora una volta dal muro e c'è ancora il cambio di battuta 5 per chi batte la svestia con A.Cambiorn 10 per chi riceve l'Italia batte di precisione teso a Cambiorn Bernardi si deve spostare Topoli vediamo Giorgi non si chiude il muro svedese Giorgi non ha problemi a passare vediamolo adesso impegnato in battuta gigante Venezio della Maxicono di Parma 10 a 5 continua a battere al salto in difficoltà Stoff Edengard per Lennarton rimedia l'Italia in difesa spinge Topoli il pallonetto per l'undicesimo punto tempismo e coordinazione sono le doti di Paolo Topoli regista sempre lucido e presente rientra in campo Lars Nielsen torna in panchina Urban Lennarton 11 a 5 per l'Italia ancora una battuta per Andrea Giorgi fuori questa volta la battuta di Andrea Giorgi comunque un punto è arrivato nel suo giro di battuta appunto 5 a 11 Lars Nielsen Bernardi Toffoli Cantagalli il suo pallonetto spinto è ottimo si cambia subito con Luca Cantagalli altro battitore al salto l'Italia nella formazione di seguito i suoi due battitori al salto ecco Luca Cantagalli la ricezione di Saf poi Edengard arriva Ben Gustafson e uno strepitoso Andrea Lucchetta realizza il dodicesimo punto sul muro 12 a 5 per l'Italia 2-7 a 1 12 a 5 ecco Luca Cantagalli rientrato da pochi minuti al posto di Anastasi la sua battuta a lungolinea la ricezione di Gustafson l'attacco di Bjorn la difesa di Masciarelli si lotta a rete Gustafson è più bravo di Bernardi o quantomeno più rapido in questo frangente e siamo sempre sul punteggio di 5 a 12 quando va a servire Peter Tolles Bernardi Topoli arriva ancora Bernardi spalla toccata nettamente da Cam Biorne nel tentativo estremo di difesa Andrea Lucchetta prima linea azzurra con Masciarelli Bernardi e Paolo Topoli ancora un cambio entra Holquist così come era accaduto nei set precedenti va in panchina per il giro di seconda linea Peter Tolles Andrea Lucchetta continua a battere corto per Nilton Edengard arriva Gustafson fuori la risposta del muro e si riprende il punteggio è fermo immobile dopo tantissimi cambi palla sul 12 a 5 per l'Italia servizio nelle mani dei nostri avversari il regista Edengard Andrea Lucchetta Topoli Bernardi contro il muro a 2 accenna un pallonetto come un veterano Bernardi protestano i giocatori svedesi ma sbagliano perché era tirato talmente dall'alto il pallonetto di Lorenzo Bernardi 12 a 5 a Cambiorn Edengard la palla finisce e tocca il tabellone luminoso 13esimo punto 13 a 5 per la squadra azzurra 2 punti separano l'Italia dalla storia c'è Paolo Topoli la ricezione di Nilton la combinazione in veloce e chiusa molto bene da Ben Gustafson 5 a 13 il punteggio Ben Gustafson che verosimilmente continuerà a battere in salto Andrea Lucchetta Topoli si deve spostare può stare in bacher ma arriva Bernardi con uno strepitoso diagonale ne abbiamo ancora una buona opportunità in battuta Lorenzo Bernardi 2-7-1 per l'Italia 13 a 5 quando lo schiacciatore della Philips va al servizio Edengard si salva come può arriva Gustafson toccata secondo il giudice di linea la schiacciata di Ben Gustafson e dello stesso avviso l'arbitro intanto per il giro di prima linea torna in campo Peter Tolt squadra in campo da 1 ora e 50 minuti Andersaf 5 per chi batte 3-13 per chi riceve Andrea Lucchetta Topoli Cantagalli Murato stesso punto per la Svezia una Svezia Maidoma sospinta dal numerosissimo pubblico 6 a 13 Andersaf ancora al servizio Andrea Lucchetta Topoli Cantagalli non è stata toccata da nessun giocatore la schiacciata di Cantagalli e c'è subito il cambio di Velasco che fa rientrare in campo Andrea Anastasi torna in panchina Luca Cantagalli 13 a 7 Andersaf fuori la battuta di Saf e ancora si cambia 2 punti per concludere il quarto set 13 a 7 c'è Andrea Lucchetta che chiede la formazione al secondo arbitro perché a sua volta la chiede al giudice di linea fa segno che è il numero 6 che deve andare in battuta quindi siamo in posizione corretta con Roberto Masciarelli che va a battere 13 a 7 2-7 a 1 per gli azzurri Andersaf Edengard la bellissima difesa di Masciarelli Anastasi Murato ma c'è Zorzi che rimedia in difesa andiamo a vedere Zorzi contro il muro 2 è fuori ma è stata toccata toccata la schiacciata di Andrea Zorzi 14 a 7 per la squadra azzurra e prima possibilità di chiudere il match 14 a 7 il servizio di Roberto Masciarelli i fischi del pubblico e il grande momento della pallavolo italiana c'è un attimo di contestazione c'è un attimo di contestazione l'arbitro assegna una contesa probabilmente era buona questa battuta l'arbitro assegna una contesa sta facendo un po' la legge di compensazione ma andiamo a vedere ancora Masciarelli l'importante è rimanere concentrati Edengard lo schema di Tols la ripresa di Bernardi e Pacezzopoli arriva Zorzi e siamo campioni d'Europa siamo i campioni d'Europa non era mai successo è meraviglioso Italia campione d'Europa non era mai accaduto al massimo un quarto posto tre di tolsa la prova della squadra ezzurra 3 a 7 a 1 contro la Svezia in casa della Svezia e adesso la Russia siamo noi la nuova Russia del continente è l'Italia questa grande Italia allenata da un grande allenatore quest'argentino Giulio Velasso urbo intelligente bravo è preparato tecnicamente è una grande Italia è un momento di grande festa c'è grande commozione anche qui c'è il presidente federale che riceve le congratulazioni non avremo la possibilità di sentirlo perché siamo per chiudere il collegamento comunque ci basta la sua stretta di mano le nostre lacrime e quelle di tutta la formazione azzurra in campo a ricevere il giusto tributo per questo titolo di questi sedicesimi campionati europei Italia campione d'Europa siamo stati più forti dalla prima all'ultima giornata inutile fare un lungo elenco di meriti ma è veramente un momento meraviglioso in Svezia contro la Svezia 3 a 1 contro tutti e contro tutti questa grande squadra con un grande allenatore grande giocatore merito di tutto il movimento un momento importantissimo per la squadra italiana ricordiamoli rapidamente in chiusura di collegamento il numero 1 Andrea Cardini grande centrale la giovane promessa a Marcucci poi Passani il regista di riserva De Giorgi un grandissimo Paolo Tofoli Roberto Masciarelli grande protagonista della finale Andrea Nassaggi il piccolo grande uomo Marco Bracci che non ha mai giocato ma che avrà molta occasione per rifarti Lorenzo Bernardi ormai un veterano Luca Cantagalli il grande giorro della nostra palla a vola Andrea Giorgi Andrea Lucchietta e poi Velasco Frigoni e tutti gli altri dobbiamo chiudere il nostro collegamento da Stoccolma lacrime grandi feste per l'Italia di Giulio Velasco si apre un nuovo ciclo per la nostra palla a volo grazie a Gian Paolo Montali per la preziosa collaborazione è tutto dalla Globen Arena di Stoccolma siamo campioni d'Europa ed è veramente meraviglioso arrivederci